Grazie Toscana! Io sono il primo sindaco della Toscana e ribadisco sindaco alla faccia della Boldrini che vorrebbe chiamarci sindache e vorrebbe imporre l'Equaterosa. Lei vorrebbe imporre l'Equaterosa perché non prende i voti della gente, non sa prendere le preferenze, vorrebbe essere imposta solo perché è donna, ma le donne quando sono capaci, l'abbiamo dimostrato io e Anna in due feudi rossissimi da 70 anni, vincono! Sono fiera oggi di rappresentare il primo sindaco eletto nella Toscana Rossa perché abbiamo aperto una diga, aperto un barco nella diga da Grosseto ad Arezzo a Cascina, li stiamo accerchiando e oggi qui da Firenze luogo simbolo per dire no a una riforma costituzionale ingiusta che non premia le autonomie, che non premia i comuni, che non riduce di fatto gli sprechi ma va in una direzione assolutamente antidemocratica. Noi da sindaci siamo qui per dire no, no, no! E il sole oggi bacia il bellissimo popolo del no, io vi saluto tutti!